Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi ci troviamo nella città di Trani, esattamente in contrada a Valleluna. Questa porzione di villa a quadri familiare posta al piano terra offre un'opportunità unica per chi desidera allontanarsi dal caos cittadino senza rinunciare al comfort della vita urbana. L'immobile si sviluppa su una superficie di circa 100 metri quadri, ideali per una vita confortevole e spaziosa. Entrando nel giardino, in condivisione con le altre unità abitative si accede a una piccola verandina di proprietà perfetta per godersi i momenti di relax all'aria aperta. Il cuore della casa è l'ampio salone riscaldato da un camino che aggiunge calore e atmosfera alle giornate invernali. Adiacente al salone una luminosa cucina abitabile illuminata da un'ampia finestra completa la zona giorno. Un comodo bagno per gli ospiti chiude quest'aria. La zona notte è composta da una confortevole camera da letto matrimoniale con bagno privato finestrato offrendo privacy e comfort per la vita quotidiana. In comproprietà con le altre unità è presente una cantina per ulteriori spazi di stoccaggio oltre a una zona di vita a parte a parcheggio e parte a parco giochi ideale per momenti di svago e divertimento. Gli spazi ben distribuiti e la presenza di servizi come il camino e il giardino rendono questa villa accogliente e funzionale per tutta la famiglia. non lasciarti sfuggire l'opportunità di acquistare questa affascinante porzione di villa e inizi a vivere la vita che hai sempre sognato. Contattaci oggi stesso per organizzare una visita. Ciao alla prossima!